attenzione attenzione soldato nemico Vedo un carro, attenzione! Assaltatore nemico, facciamo attenzione! Attenzione, mitragliatrice in un'unica! Assaltatore, teniamolo d'azio! We have taken Objective Charney! We are losing Objective Charney! Objective Charney! E' un po' verso l'estate! Geni, curati la ferita! Ho individuato un soldato nemico! Ehi, vedo un bombardiale nemico! Quello è un loro trasporto! Attenti! Ricognitore! Cannoni localizzati! We have lost objective power. Ho visto un soldato! Stiamo superando l'attività! We have lost objective power. Medico nemico individuato. We are losing objective charge. We are losing objective charge. Carino! Si sta abbastando l'objetivo! Si! 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 Si. We have lost Objective Charlie We have taken Objective Freddy Via Via We have lost Objective Freddy We have taken Objective Charlie Ho visto un medico Visto? Uno dei loro soldati Visto? Visto? Visto! Visto? 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 Visto!? 재밌ando questi due Visto! Come abbiamo mobile madonna Visto! Non loro dunque Va essere dati Non riusci만 Visto Ehi, lì c'è un soldato! We are losing Objective Charney. Furious! Market valuable! You can try to restore this power! Ascoltatore localizzato! Ehi, vedo un assaltatore! Ehi, vedo un attimo! Ehi, è un carro nemico! Ragazzi, no! Un giusto nel senso! C'è un assaltatore! Ehi, vedo un attimo! Ehi, vedo un attimo! Non presto! Ehi, vedo un attimo! 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 Wow! We have lost Objective Duff. We have taken Objective Butter. We have lost Objective George. We have lost Objective Duff. We have taken Objective Duff. We have lost Objective Freddy. Convertire l'enemico! 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 Corre l'enemico! Vi adonare l'enemico! Convertire l'enemico! Convertire l'enemico! Convertire l'enemico! We have taken objective, Freddy. Attenzione! C'è un ricognitore! Siamo attenti. C'è un soldato! Ho individuato un aereo nemico! Perivolo nemico avvistato! Mitragliatrice! È una delle loro! Un soldato nemico! Marecchino, a riparo! Soldato nemico individuato! We have taken objective, Charlie. Un soldato nemico avvistato! 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 We have lost Objective Butter. We have lost Objective Charlie. We have taken Objective Apples. We have lost Objective Apples. We have lost Objective Apples. We have taken Objective Butter. We have lost Objective Apples. 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 We have taken Objective Charlie. We have lost Objective Apples. We have lost Objective Apples. We have lost Objective Apples. Objective Apples. Company Magazine. We have lost Objective Apples. We are losing Objective Butter. We are losing. We are losing Objective Butter. And Objective Edward. We have lost Objective Button.